Doveva essere per la Delfes il weekend verità, il weekend salvezza ed invece il covid ha colpito per la prima volta in stagione il roster avvelenese di coach Giovanni Benedetto che non scenderà in campo a Monopoli nello scontro diretto. È stata rinviata data da destinarsi la sfida in terrapugliese. Peccato perché la Delfes arrivava all'appuntamento carica dopo il doppio successo interno contro Torrenova prima e Sant'Antimo poi e prima di scoprire le positività al coronavirus la squadra aveva svolto le ultime sedute tecnico-tattiche per arrivare al meglio al match. Non si sa se è stata fatale l'amichevole di mercoledì scorso a Stala Consilina ad innescare il presunto focolaio ma resta il fatto che Avellino dopo il primo rinvio per covid contro la Fidelia si ritrova ancora una volta senza il sapore della partita. L'unica nota positiva giusto per rimanere in tema è che Alessandro Marra e Giovanni Carenza potranno soffrire di questi giorni di tempo per recuperare dai loro malanni fisici e che la Delfes sarà spettatrice interessata degli incontri delle altre dirette concorrenti alla permanenza in B ovvero dei match della Virtus Bava Pozzuoli in casa della Corazzata Ragusa, di Cassino Molfetta e di Forio in quel di Reggio Calabria sulla carta proibitive le partite dei Puglielani e degli Isolani mentre quella tra i laziali della Virtus e Molfetta porterà a gioco forza uno dei roster ad quota 18 punti perché appaiate a 16.